Ciao a tutti, eccomi qua con la new entry della famiglia. Lo avete visto in un post, abbiamo trovato questa gattina che non vuole stare in braccio, la posa a terra. Vi dicevo, abbiamo trovato questa gattina, in realtà è stata trovata da mio marito. Era veramente in condizioni disperate, però come vedete anche grazie all'aiuto della mia vicina che è stata veramente bravissima. Grazie Marina e insomma siamo riusciti a salvarla. E bene, per farmi perdonare di questa mia mancanza dal canale YouTube, tengo fede ad una promessa. Un po' di tempo fa vi promisi che vi avrei fatto vedere il mio abito da sposa. Molti di voi di sicuro ricorderanno questo tessuto a quadretti. Quindi nulla, ora vi lascio alle foto del mio matrimonio, a qualche foto del mio matrimonio. E così potrete vedere l'abito. E approfitto di questo spazio per un'altra comunicazione di servizio. Anche nella settimana che verrà io non riuscirò a realizzare un video di fai da te, perché devo dare il bianco in casa. Finalmente noi speriamo di riuscire a chiudere la stufa. E quindi nulla, sarò indaffaratissima. Tra l'altro in questo periodo di quarantena io ho lasciato indietro veramente un mucchio di cose. E le devo fare. Quindi, come sempre, grazie, grazie a tutti. Vi lascio alle foto, vi abbraccio forte forte a sabato prossimo. Un bacio e come sempre mi raccomando, iscrivetevi al canale e condividete. Qui intanto girano ogni tipo di animale. Ciao! Grazie! 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 Grazie!